Amiconi belli di Player Inside Cominciamo subito con annunci lolly numero 200 22 penso Ma siamo arrivati a 231 l'altra volta 21 221 Ah lolly 222 va bene Eh Raiden lascia bene, fai fare a me per cortesia? Si Cominciamo Qualcuno ha Red The Champion 2 Per PS4 da vendere max 10 euro Red The Champion mi manca Lo sai che in GTA quando muori c'è Wasted Che significa massacrato Ma è morto, no? Ebbene c'è un GTA tarocco in cui c'è scritto Sprecato Perché è la traduzione letterale di Wasted Waste, sprecare Forse si riferisce al tempo sprecato A giocare a sta me Attenzione qui vendono Papà 4 Neanche uno Ma 4 papà Regalo maglione causa delusione D'amore Se lo indosso ancora una volta I ricordi dolorosi e le memorie crudeli Mi divoreranno Taglia S come strazzi Ma no dai Ma che tristezza Regalo maglione delusione Case Che Che Proprio case C-H-E-I-S C-H-E-I-S No S C-H-E-I-S Attenzione perché sul sito di Intel Si Dicono Scusa Intel abbiamo voluto trovare il pelo nell'uovo Tutto qua Momento istruzione Mi raccomando Mi raccomando Io ho intenzione di passare a Md Però Però se per caso volessi sponsorizzare siamo qua Fisi un allumino Sarebbero in fissi in alluminio Fisi in alluminio E' tipo per i cibi per i capi Sì una cosa del genere Presescini per i capi Ora tu mi spieghi che cos'è Presescini per i capi Presescini per i capi Perché ci sono anche punti di sospensione Tu devi leggere bene Sì ma è una playstation E Presescini Presescini e playstation Per i capi Oddio cos'è sta schifezza Realizzo tante prodotti Ti interessano Riden Ma cos'è è un bambino vero dentro una E' tipo una foto Non lo so perché fate queste cose Ma è orribile scusami ma è tutto sgorgo Ma fa schifo Cioè che cos'è Ma perché Ma è un po' come quelli del signor distruggere Vendono i copribidei Copricesso Usato due cinque volte Non di più Vendono perché non lo usano Per chi fosse interessato Il tiragraffi lo dovete prendere voi Io non posso arrivare dove state voi Perché l'interesse è vostro Io vi posso venire incontro a metà strada Ad esempio Chi è di Palermo? Io posso venire Villabate Voglio precisare Perché ci sono persone che hanno l'interesse Devo andare io sotto casa Grazie per aver letto una buona giornata Posso dirti una cosa Si scrive con tre parole Ritiro a mano Che poi manco mi piacciono gli uomini prezzolati come a te Anzi come dicono a Londra See you later O se no Alla vista Prezzolato intendo Intende brizzolato Brizzolato Dai Anche tu sei un po' prezzolato Io sono molto prezzolato Ho notato Raiden ultimamente più prezzolato Sono molto prezzolato Me lo dicono sempre quando faccio le recensioni di giochi Sony Ah si Perché sono aro prezzolato Capitolo primo Hai un cuore caldo gattini fanno? Si Alcuni viaggio di guarigione in procinto di aprire Si Hai capito? Si si Divano in stile Vendo divano in stile Stile uguale? Brutto Comparti in legno Lavorati artisticamente Ah no Non è facile ragazzi Io lo comprerai Cioè È una tecnica difficile Cioè Donne bohemia Alloggio drill Stella Luna pendente Corto Decorazione Coglione L'avevi già predetto che c'era il coro Si Mi stavo Perché quando c'è un pendente È un coglione Esatto Quando c'è un cassetto è uno scroto No è un po' Un p***o No quella è una ventosa della doccia La sacca è lo scroto La sacca è lo scroto è una borsa eh È uno scroto No quando c'è l'appendì L'appendì asciugamano è un su? Succhi e c***o Oppure c'è E che ne so Certe volte gli armadietti Cazzate coglione Vendo porno passante frm Va bene Ci sta Tutto sommato l'oggetto sembra essere adibitua Prossima apertura fiolleria Si si Piante da orto Piante fiolle fresche Piante albero di frutta Arbero di frutta Vaso concime Terraccio Fiole plastica Si si Ma scusami Che poi il ragazzo che ce l'ha mandato Ci ha scritto che poi ha aperto questa fioleria Si È stato qualche mese è chiuso Era una sartoria Ma sono gli stessi Saltoria Saltoria Attenzione qui c'è una pubblicità Ah cominciamo benissimo Camper in buone condizioni Vendo per conto di un mio amico A stenersi a zingari O uomini disperati o divorziati No pianistei No assegni No stelle No diamanti No baci No mocassine Ma le mocassine Ma io volevo pagare in diamanti Io e mocassine Tutto fatto Produzione propria E tenatillo Anche pagamenti con la carta di cittadinanza Mamma Comunque bellissima eh Cioè sobria Stecca da biliardo con punta Stecca da biliardo Da biliardo Da biliardo Punta per stecca da biliardo Strumento di riparazione in metallo Colore nero Ma è da biliardo per caso? No Scheff Passa a K E mano veloce Impresa Tappabuchi Ripara danni di altri E passa a K Cos'è? Ma forse è un rebus Ah Non lo so Di solito noi non mettiamo recensioni ragazzi Però questa mi ha fatto ridere Regina Island Panno veramente schifo Suono schifo Batteria schifo Qualità schifo Plastica schifo Ho solo una parola Scofo Eri stato così bravo L'hai scritto 1,2,3,4,5 volte Bene E alla fine scofo Se questa porta è chiusa Significa che non è stata ancora aperta Beh non è detto Può darsi che sia stata aperta prima Cretino Scemo Cioè che vuol dire? Cioè che vuol dire? Niente di Switch E sei giochi inclusi Ah Vabbè Allora niente Io l'avevo preso per Switch Non va bene Fanta non all'uva Ma all'uova Alle uova? Madonna che deve fare schifo Questo è Rai all'ultimo drago Ma ristabilire la pace Trovare l'ultimo trago Trago Ma tra te te Rai all'ultimo trago Trago Avvicinare il polso o il fronte sul scanner Per misurare il febbre E' tutto maschile qua Console da gioco wireless retro con 80 bambini di emulator e più di 50.000 em No allora non vabbè Giochi Tante bambini un po' troppi Cioè no Salve Salve Allora oggi sono di fretta E come insalate che cosa avete? Mi spiega che cosa ci fa questo in un ristorante Non lo so Per questo c'è un Ci sono gli occhi qua Ah già No questo è il green screen Abbiamo Ai Gliel'ho detto già signora Allora lei è proprio una testa di mini Gliel'ho detto che abbiamo ricreato questo ristorante In onore di playere insieme Un canale che seguiamo è la stanza Però vede che c'è una differenza I led non sono accessi Ah anche prima ne sono accessi Comunque E allora cosa fate? Abbiamo insalata di polopo con rucola Oppure Un polpo era offensivo Un polopo L'abbiamo dovuto togliere Oppure insalata di polipo con patete Eh ma l'insalata di mare? Con pol radigranchio Molto bene ragazzi Vi ringraziamo per essere stati con noi Sì Per questa sfolgorante puntata di Annunci Rolli 2 C'è silenzio Annunci Rolli 222 Vi ringrazio Cioè parlare di sopra è brutto no? No? Anche urlare così Eh Avanti Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.